Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 22 agosto 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Amore, bilaterale o biugno-voco? Che l'argomento del giorno sia l'amore è un dato acquisito, basta vedere Venere timida ma innamorata nel vostro segno, sostenuta dal trigono di Urano che poco a poco le dà coraggio. E ne ha bisogno poverina, sotto tiro della Luna e di Saturno opposti e, come se non bastasse, con la spada di Marte e lo scudo di Giove piazzati in verticale sulla testa, come il sole di mezzogiorno allo Zenit. Da dire, da confessare avreste moltissimo, dolci sentimenti, speranze, timori e pudori quasi fanciulleschi, perfetti per il protagonista di un romanzo ottocentesco o meglio ancora della letteratura cortese medievale. Il guaio è che con Mercurio ammutolito e prigioniero della dodicesima casa le parole vi si bloccano in gola, vorreste dichiararvi, togliervi quel peso dal cuore tutto d'un fiato e invece. La paura del rifiuto, peggio di un sorriso sarcastico, vi blocca ancora prima di riuscire a dire a. Complicazioni ovunque, soprattutto in azienda, il rientro non è mai facile con i ritardi da colmare e gli anticipi da preparare per non farvi trovare impreparati. Se speravate che il capo, grazie a una splendida vacanza, sarebbe tornato più calmo e mansueto, vi siete sbagliati di grosso, le vostre antenne non funzionano, per emulare Nostradamus ne dovrete ancora fare di strada. La configurazione celeste è radiosa nel mese centrale dell'estate, con la prestigiosa presenza di Venere e Urano, entrambi benefici per il vostro segno. In particolare Urano vi guarda amorevole dal segno fidato del toro, forma fisica, famiglia godono di buoni auspici astrologici, specie se siete nati nella terza decade. Per contro, Saturno vi contrasta, dal segno a voi disarmonico, ma solo sul piano strettamente tecnico, dei pesci, provocandovi qualche lieve intemperanza, alti e bassi cui a volte non sapete neanche voi dare una spiegazione. Ne risentite l'influenza soprattutto se appartenete alla seconda decade Virginia. Venere protagonista del vostro segno, bella, gentile, elegante nella sua semplicità oggi si ritrova bersagliata da una quantità di pianeti antipatici. Precisamente, il trio Luna-Saturno-Nettuno dai pesci e la coppia Giove-Marte dai gemelli, nel punto più alto del vostro cielo. Unico a tenerle bordone, rassicurandola riguardo alla sua bellezza e al suo immenso benessere, l'amico Urano che dal segno del toro invia un trigono corroborante. Affidatevi a lui che tirerà fuori dai guai anche voi, lo sottolineano tutti i testi esoterici, la giornata che precede il compleanno, di voi tutti nativi del sesto segno, è sempre difficile e le stelle del giorno non potranno che confermarlo. Amore ed Eros. Di amore ne avete pieno il cuore, per la persona che vi cammina accanto da tempo o per la new entry conosciuta in vacanza di cui vi siete dolcemente invaghiti, se non addirittura follemente innamorati. Subito arrivano però le ostruzioni sia dal mondo delle stelle che da quello degli umani, lui o lei è già impegnato, oppure vive lontanissimo, addirittura in un altro continente, e allora come fare? Alternativa sempre plausibili, potreste essere voi quelli già legati e con il cuore sanguinante vedendo partire quella persona che vi ha fatti sentire di nuovo vivi, giovani e fascinosi. Certo la vita con un partner musone, sempre scontento, freddo e distante anni luce non è facile ma. Non lo è nemmeno buttare tutto all'aria in seguito a una vacanza, se son rose fioriranno, sappiate già in anticipo che avranno anche lunghe spine. In coppia sesso e sentimento viaggiano su binari divergenti, dopo un litigio si torna a dormire vicini ma. Per il momento i lavori notturni restano in sospeso. Lavoro e denaro? Finché siete in vacanza l'impegno più duro, se proprio lo volete accettare, si limita alla scarpinata in montagna, alla gara sportiva, alla serata nottambula tra amici, anche se a un certo punto vi verrà sonno e bene andreste volentieri a dormire. È per chi ha ripreso il lavoro che questo mercoledì riserva i peggiori grattacapi, un responsabile intransigente e più isterico di voi un socio inefficiente che non fa quasi nulla mollando la patata bollente sempre sulla vostra scrivania un interlocutore in affari che da quest'orecchio non ci sente. Insomma una situazione più ingarbugliata di quanto non fosse quando l'avete lasciata per andarvene in vacanza. L'unica cosa che gira gli studi, se vi state preparando per i test d'ingresso o per una sessione d'esame settembrina, sia pure con fatica un po' di entusiasmo ce lo state mettendo, specie se si tratta di una materia che vi interessa e nella quale sperate di potervi laureare. Benessere. Belli lo siete e lo rimarrete per un bel pezzo, nonostante le varie complicazioni che vi propone l'esistenza, arrabbiature, delusioni o piccoli malanni. Frequenti emicrania, stati infiammatori, stanchezza, soprattutto se, provenendo da un luogo paradisiaco, ventilato e immerso nella natura, vi ritrovate nella città ancora infuocata alle prese con il lavoro che stenta a carburare. Niente carne e alimenti calorici nel piatto, puntate quasi esclusivamente su verdura frutta e cereali, inutile aggiungere che il bicchiere reclama solo acqua, il vino lasciatelo maturare in botte ancora un po'. Denaro. Con urano nel segno amico del toro, le vostre possibilità di aumentare i quattrini diventano doppie e triple. Siete un segno fortemente risparmiatore e capace di accumulare addirittura ricchezze. Per lei, appena rientrare da una vacanza, visti chiare di luna e annusata la situazione vorreste fare subito valigia e tornare indietro. Impossibile, magari la valigia la riempite davvero, ma solo per recarvi al meeting con un intervento fissato tra i primi. Già al pensiero vi si secca la lingua. Per lui, quella bella donna conosciuta in vacanza vi ha mosso qualcosa nel cuore e nella pancia, ma ben sapendo come vanno a finire queste cose decidete di tirare il freno a mano. Ci manca solo che vi parta l'embolo facendovi perdere terreno sul lavoro, il vostro vero, grande amore, secondo Snopi, terzo, variabile, Andrea, Susanna, Roberta. Oppure MRS No Body, la più charmante. Colore delle emozioni, crema al caffè. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno, sentimenti, 6, attività, 7, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se lo trovi interessante e utile, non dimenticare di cliccare sul pulsante mi piace. Buona giornata. Grazie per aver guardato il video.